Ennesimo episodio di sinistro stradale che vede coinvolto un ciclista è accaduto nella tarda serata di ieri poco dopo le 18 a Piagge nel neocomune di Terre Roveresche un uomo in sela alla sua bicicletta stava andando da Piagge lungo la strada che costeggia il corso del fiume Metauro quando un'auto che percorreva lo stesso tratto di strada lo ha fatto cadere rovinosamente a terra dopo averlo urtato sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno disposto per il ciclista il trasporto in eleambulanze al torrette di Ancona anche se l'uomo era vigile e cosciente al momento dell'arrivo dei soccorritori nessuna conseguenza per l'occupante invece dell'autovettura ora sulle dinamiche dell'incidente sono in corso le indagini della polizia stradale di Urbino che è intervenuta sul posto inizialmente le condizioni dell'uomo sono apparse gravi ed è stato trasportato ad Ancona in codice rosso ma le sue condizioni sono migliorate nel corso delle ore e se la caverà con una prognosi di 20 giorni